Linea dura della questura di Padova in tema di sicurezza in una delle aree più critiche della città, quella a ridosso della stazione ferroviaria e di via Tomaseo. Da alcuni giorni sono partiti dei controlli straordinari con l'impiego di numerosi agenti. Inoltre sul posto è stato istituito un ufficio mobile di polizia per il presidio di queste zone maggiormente interessate da fenomeni di criminalità diffusa. I servizi si svolgono quotidianamente sui quadranti pomeridiano e serale con l'impiego di personale della questura, volanti, poliziotti di quartiere, unità cinofila antidroga, squadra mobile e del reparto prevenzione Crimine Veneto. Il lavoro straordinario è cominciato il 29 luglio e in tre giorni sono stati controllati 48 soggetti dei quali 38 sono risultati con precedenti penali. L'attività della questura proseguirà. L'attività della questura